Non credo che fa meno male, è stata una partita tosta, abbiamo lottato, mi dispiace tantissimo per il quinto set perché ci meritavamo di andare a gara 5. Poi davanti a questo pubblico volevamo regalare altre emozioni, non è stato così oggi, complimenti a Conegliano, una squadra che si merita lo studetto. È una squadra che ha lottato fino alla fine, è stata una stagione lunga, tosta, ma alti, bassi, però ci siamo meritati questa finale bellissima, è stata una serie bellissima, abbiamo dimostrato che era il nostro merito di essere qua, quindi mi ricorderò per sempre questa finale. Grazie Grazie Grazie